Fili? Sì? Ma quanti ne abbiamo oggi? Martedì 28 luglio. Oh, è il 28 luglio, quindi è finita la quarantena, finalmente è finita la quarantena. Qui dice così il giornale, 28 luglio del 98. No, 28 luglio del 98 siamo ritornati indietro invece che avanti con la quarantena, no. Infatti c'è Pantani che vince il giro qua. Ancora c'è Pantani che vince il giro, siamo tornati indietro nel tempo, no, non ce la posso. Non si capisce più niente. Non si capisce più niente. Io dormo perché magari quando mi sveglio è finito tutto e siamo nel 2030. Speriamo noi. Arrivarsi. Arrivarsi. Il 28 luglio del 1998, no. Rompevi nel 98, romperà nel 2030. Vabbè, vado a fare la fettiglia. Aspetta, porta dietro il bambino. Oh!